Si chiama Matteo Ciacci e da 27 anni, sarà lui il più giovane capo di Stato al mondo in carica. L'elezione è avvenuta da parte del Consiglio Grande Generale, il Parlamento di San Marino, lo scorso 14 marzo e il primo aprile si tiene la cerimonia di insediamento dei capitani reggenti, che restano in carica per sei mesi fino al primo ottobre, quando subentreranno altri due nuovi capitani reggenti. Tradizione secolare quella sanmarinese, che vede due persone contemporaneamente a capo dello Stato, ma anche del governo e della magistratura, fin dal 1244. Un enorme potere per un piccolo paese, di cui la scelta di averne due, che devono essere però sempre concordi nelle decisioni, altrimenti uno può mettere il veto alle decisioni dell'altro. Fino al primo ottobre, assieme al 27enne Ciacci, siederà anche il 53enne Stefano Palmieri, al suo secondo mandato come capitano reggente. Ciacci sarà il più giovane capo di Stato al mondo in carica, ma non il più giovane in assoluto. Nel 2010, infatti, era già stato eletto a San Marino un altro 27enne, mentre nel 2003 c'era stato un 26enne. Il record per il Titano risale addirittura al 1988, quando fu eletto alla Regenza un 25enne.